Chi ha preceduto? Chi ha preceduto le sorelle Fox? Commento. È stato Andrew Jackson Davis 1826-1910 che ha fondato il movimento spiritualista negli USA. Davis concordò con Allan Kardec circa l'interpretazione spiritualista dei fenomeni paranormali più spettacolari, ma negò la reincarnazione. Scrisse una trentina di opere, tra cui The Principles of Nature, The Divine Revelations and A Voice to Mankind 1857, una grande opera sulla Costituzione del mondo. Priva però di aperture convincenti perché gravemente orfana della legge di reincarnazione.